salve amici bentornati nel mio canale ieri parlando con una giovane signora mi chiede come aprire velocemente i bacelli dei piselli un metodo particolare e cosa fare poi con l'involucro ovvero con le bucce e mi chiede appunto di pubblicare un video il bacello è da una parte dritta e dall'altra è a conca un po curva proprio nella punta se premiamo la punta leggermente poi mettiamo il dito ed estraiamo il frutto è molto molto semplice molto facile vedete esattamente come faccio in video sempre dalla punta quella curva dalla parte esterna del bacello qui in particolare lo mostro lentamente in modo che è più facile in questo metodo riusciamo a sbucciare in 15 massimo 20 minuti circa due chili e mezzo di piselli importante però che il bacello stesso cioè il frutto deve essere sopra una bacinella in modo che i semi cadono direttamente lì dentro facciamo molto molto prima e adesso passiamo alle bucce anche le bucce di determinati tipi di piselli sono commestibili da mangiare io le raccolgo tutti dentro una cassetta così come vediamo in video e poi la prima soluzione è quella di alimentare il mio composto ovvero il fertilizzante naturale la seconda poi è cibo cibo naturale per i nostri conigli ci vanno pazzi li gustano veramente molto molto volentieri se avete voi stessi un coniglietto fate la prova ne rimarrete sbalorditi in un prossimo video vi farò vedere come cucinare un ottimo risotto con le bucce dei piselli è gustosissimo un ottima pietanza senza glutine se ti è piaciuto il video lascia un like ed iscriviti al canale ciao amici alla prossima ciao ciao ciao